In riferimento alle 31 positività al Covid-19 riscontrate dopo una vacanza a Marina di Lesina, la ASL Foggia chiarisce. Il focolaio ha riguardato un gruppo di preghiera proveniente da Zogno in provincia di Bergamo, composto da genitori e figli. Concluso il ritiro, il gruppo principale è ripartito alla volta di Zogno il 25 luglio, mentre due soli ragazzi si sono separati per proseguire la vacanza. Rientrati in provincia di Bergamo, alcuni hanno manifestato dei sintomi. Allertati, tutti gli altri si sono sottoposti a tampone. Al momento 70 sono le persone in isolamento fiduciario. Due ragazzi che si erano staccati dal gruppo, uno è subito dopo rientrato a Zogno, mentre solo il secondo è rimasto in provincia di Foggia, anche lui in isolamento fiduciario. Sottoposto a tampone è risultato negativo. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che mercoledì 4 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 12.668 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 236 casi positivi, 98 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia Bat, 24 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.936.394 test, 247.304 sono i pazienti guariti, 2.729 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.704 così suddivisi, 95.980 nella provincia di Bari, 25.930 nella provincia Bat, 20.188 nella provincia di Brindisi, 45.612 nella provincia di Foggia, 27.840 nella provincia di Lecce, 39.873 nella provincia di Taranto, 863 attribuiti a residenti fuori regione, 418 invece sono di provincia di residenza non nota. In Puglia l'agricoltura non è più considerata l'ultima spiaggia di chi non ha un'istruzione, bensì una nuova strada del futuro per giovani generazioni, interconnesse e propense all'innovazione tecnologica. La consapevolezza dell'avanzare della cultura digitale ha spinto la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia a presentare un nuovo e ambizioso corso denominato Tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere agroalimentari, rivolto a formare tecnici superiori con competenze su tecnologie avanzate in grado di rendere più efficienti e sostenibili le filiere agroalimentari. Un progetto che garantirà competenze specifiche e occupabilità in un settore dedicato dell'economia pugliese, grazie al canale formativo rappresentato dagli istituti tecnici superiori, scuole speciali di tecnologia sulle quali la Regione Puglia continua ad investire. Il corso è realizzato dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia in collaborazione con il Galponte Lama e con Conf Cooperative Puglia, associazione da sempre attenta alle dinamiche e all'interazione tra formazione e impresa. Queste figure sono richiestissime perché sempre di più le aziende che tradizionalmente operano nel comparto si sentono arretrate rispetto alle loro competitor, diciamo anche a livello nazionale e anche internazionale, per cui hanno necessità di reperire figure esperte che possono trasportare in un'innovazione sempre più preponderante le loro produzioni. Il tecnico verrà formato allo scadere delle 2000 ore, quindi nel 2023 e si intende fornire agli studenti anche qualche innovazione del campo che a tutt'ora è ancora in erba, che man mano si svilupperà, così da essere già pronto tra due anni ad implementare anche altre nuove tecnologie nelle imprese. Noi abbiamo sempre, come mondo della cooperazione, ci siamo messi sempre a disposizione per gli stage, quindi per aprire le imprese cooperative ai giovani che frequentano questi corsi. Ormai è una collaborazione storica potremmo dire perché sono anni che facciamo questo come conf cooperative. Devo essere sincero, le cooperative sono propense ad aprirsi perché poi portando dei giovani all'interno ci sono anche giovani idee che entrano nel mondo delle aziende stesse. Si conclude l'iter autorizzativo per il raddoppio della Termoli Lesina, opera ritenuta strategica per potenziare i collegamenti ferroviari lungo l'intera direttrice adreatica. La chiusura della conferenza di servizi e l'approvazione del progetto definitivo della tratta Termoli Ripalta, da parte del commissario di governo per il completamento del raddoppio della linea Pescara-Bari, segnano un importante traguardo nello sviluppo dell'intervento. Dopo aver ricepito le prescrizioni della conferenza di servizi, sarà infatti possibile avviare entro novembre la procedura negoziale con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del raddoppio di linea lungo i 25 chilometri che separano Termoli a Ripalta. Sul tratto Ripalta Lesina, assegnato lo scorso marzo a un raggruppamento temporaneo di imprese, invece in corso la progettazione esecutiva propedeutica alla fase di avvio dei campieri prevista entro la fine dell'anno. L'investimento complessivo per l'intero progetto di raddoppio dei 33 chilometri della Termoli Lesina è di 700 milioni di euro. L'opera consentirà di aumentare la capacità, ossia il numero di treni, di velocizzare e regolarizzare il traffico ferroviario sulla direttrice Lecce-Bologna. Grazie a tutti!